Dottor Salvati, oggi si tiene il primo forum del Legno Arredo organizzato da FEDER Legno Arredo e in uno dei workshop si è parlato di retail, lei è stato protagonista insieme al CEO, deputato di IKEA Italia. Qual è secondo lei lo spunto più interessante che è emerso da questa chiacchierata? Il tema della conferenza è quello del retail che diventa l'arma fondamentale per accedere ai mercati, i mercati diventano sempre più retail. L'altra cosa è l'insegnamento di IKEA che il retail è il punto di confronto con il consumatore, è il momento in cui si decide tra il vincere o il perdere sul mercato e il fatto di strutturare tutto il sistema d'offerta a partire dal consumatore. Questo è l'insegnamento fondamentale direi. L'incontro di oggi è la conferma che quando si organizzano degli eventi a favore delle imprese la gente partecipa? Direi di sì, dal numero di partecipanti, insomma un'aula abbastanza grande, piena e con un sacco di gente in piedi, con un riscontro di interesse visto anche dopo la conversazione che abbiamo avuto direi di sì, sicuramente è una cosa utile perché poi scambiare idee, confrontarsi è sempre il sale per andare avanti, cioè capire cosa fanno gli altri, capire cosa gira per il mondo è sempre un buon modo per migliorare. Grazie Grazie Grazie